Oggi a Pescara viene presentato questo progetto Hub Creativo verso i poli a orientamento artistico. Vogliamo spiegare di cosa si tratta? Hub Creativo è il titolo del progetto che è stato presentato dall'Istituto Comprensivo Colle Corvino che è scuola capofila di una rete, le trame dell'arte, a cui afferiscono 14 istituzioni scolastiche della provincia di Pescara. Con questo progetto che è stato finanziato dal Ministero dell'Istituzione e del Merito e attraverso il piano triennale delle arti noi metteremo in campo una serie di azioni formative nei confronti dei docenti e dei nostri alunni. Laboratori creativi interartistici musicali, laboratori di archi. Abbiamo una serie di partner che collaborano con noi dal Conservatorio d'Annunzio di Pescara a tutte le varie istituzioni scolastiche, l'associazione Camerton, associazione accreditata dal piano triennale delle arti, l'Università del Salerno per un'attività di ricercazione, il teatro stabile di Abruzzo e uno teatro per attività proprio teatrali rivolte ai docenti e poi a ricaduta a cascata nei confronti di tutti gli alunni. Un progetto che vuole promuovere all'interno dei vari territori italiani le reti scolastiche e incentrate appunto su una tematica che è quella appunto dello sviluppo della capacità creativa e artistica dei nostri ragazzi senza la quale appunto la società non può evolvere e migliorare, soprattutto per quanto riguarda le emozioni e la capacità comunque di creare cose innovative. E quindi oggi parleremo di poli performativi e artistici nella scuola del primo ciclo proprio perché vogliamo mettere insieme tutte le scuole che sono interessate a questa tematica e sviluppare appunto questa capacità creativa e artistica nei ragazzi. È un hub ricreativo che comunque parte da una rete di scuole dal 2017. Oggi viene presentato un'evoluzione che è un hub creativo dove si farà un partenariato con alcune scuole più importanti e quindi si dà più possibilità a questi ragazzi di un confronto di crescita permanente.